Mettite il quadro, pensavo che non riferisci alla signora, adesso. Ma tocca! Che sei che faccio? Ferma, 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 ferma. Non so che vedi. Non sto vedendo niente però io. Certo non vedi niente perché è tutta gelata. Ecco, guarda bene. Piano, 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 piano. Sì, guardate che c'è un'altra cosa. La macchina c'è un'altra cosa? Sì, tutti i motocicletti sono. Tutti i motocicletti sono. L'ha detto che c'è un altro? Sì, avevano una trencina di motocicletti perché c'è altre. Per questo aveva fatto sparire, aveva fatto buco per la macchina. Ciao. Ok. Chiudi, chiudi. Ah, devo giudere. Allora, saluta. Auguri. Saluri. Auguri. Buon anniversario. Buon concreante. Lei è concreante a me. Assoluto. Auguri. Ciao. E lui che c'è? È bello prezzo. Ne facevo qualcuno in più. Li porto bene. Sì, che senso? Però io e lui viene qualcosa. Riesci che fai con me nel 21 settembre. Ma che dici fai con me nel 21 settembre? Cos'è? Cos'è? Sei sempre bronata. Sì. Bronata. E allora c'è una un'unità. Mi merito. No, no. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.